buongiorno ad abiettivo news oggi 17 marzo è san patrizio e si celebra la giornata mondiale delle torte una ricorrenza che coincide con quella irlandese di san patrizio in realtà la data non è così certa perché negli anni la celebrazione è stata riportata con tempistiche differenti attraversando il calendario e trovando spazio sia a gennaio che a maggio fino a novembre non ha una connotazione storica ma è più un modo per celebrare un'occasione di convivialità l'opportunità per misurarsi con nuove intriganti ricette per creare una torta sopraffina la giornata mondiale delle torte l'occasione per condividere tutti insieme la gioia che produce realizzare un dolce con le tue mani miscelando con cura gli ingredienti per poi infornare il tutto e non dare la casa con l'aroma più confortante di sempre il 13 maggio ad esempio si celebra sicuramente la torta più famosa ovvero quella di mele ripartizzata come national apple pie day la prima ricetta è del 1381 ma della torta di mele sin dai tempi antichi si conoscevano le qualità e la buonità